Mi chiamo Maria Teresa della Beffa, sono laureata in scienze agrarie, continuo a fare per quel che è possibile divulgazione di quello che è stato il mio lavoro, ma anche una mia passione, che è quindi occuparmi di piante e mi occupo anche di insetti impollinatori in quanto sono apicoltore da quasi 50 anni. La storia dell'agenziana pneumonante, questa specie in particolare, ha un ciclo biologico molto curioso associato a una farfalla che si chiama maculinea alcon ed è un licenide. Questa maculinea che va a posarsi su questa genziana, questo accade verso luglio così, perché la fioritura inizia da luglio e può andare avanti fino a settembre-ottobre, e deponendo le uova sul fiore dell'agenziana pneumonante nascono questi bruchi, queste sue larve, che mangiano un po', quindi l'agenziana fa da pianta nutrice, ma poi dopo la serza muta si calano a terra e questi bruchi, una volta arrivati a terra, emettono dei feromoni, dei messaggi chimici molto particolari che attirano le formiche, una formica in particolare del genere mirica, che loro fanno uno stridio che è identico a quello delle formiche e quindi raccolgono queste larve, se le portano nel formicaio, le nutrono, le accudiscono, in cambio queste larve della maculinea producono una secrezione zuccherina, quindi c'è uno scambio di favori e comunque da lì poi, a un certo punto, una volta che ha finito il suo ciclo larvale, farà la crisali del bossolo e quindi queste formiche si ritrovano che a un certo punto dal loro formicaio viene fuori una farfalla,